Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono di nuovo con voi con un bellissimo video. Tagba Buyukustun, una delle più importanti attrici turche, ha rotto il silenzio di fronte alla spiacevole situazione che suo marito Engin Akiurek ha vissuto negli ultimi giorni. Il famoso attore ha sostenuto la moglie in una dichiarazione rilasciata sui suoi account social, ma ha anche criticato aspramente il modo irrispettoso con cui si è diffusa la notizia della sua morte. In un post estremamente emozionante, Tagba Buyukustun ha dichiarato che questi brutti attacchi contro suo marito e la sua famiglia erano inaccettabili. Ha reagito duramente, soprattutto in due modi, alla diffusione di false notizie sulla morte. Tuba Buyukustun ha sottolineato che tali interventi nella vita privata della famosa coppia sono un attacco non solo a loro stessi, ma anche ai valori della società. E ha affermato che i media e le piattaforme dei social media dovrebbero agire in modo più responsabile. Ha inoltre affermato che la diffusione di notizie così false e ingiuste ferisce i sentimenti delle persone e può portare a gravi conseguenze. La dichiarazione di Tuba Buyukustun è stata sia il suo sostegno a Engin Akiure che sia un appello all'etica dei media. L'atteggiamento coraggioso e determinato dell'attore è stato molto apprezzato sia dai suoi fan che dalla società in generale. Ha anche sottolineato che tali incidenti possono capitare a tutti, non solo alle celebrità, e che la società dovrebbe essere più sensibile a questo problema. A seguito di questo incidente, è iniziato un ampio dibattito sulle piattaforme di social media e sui media sulla necessità di essere più attenti nel diffondere notizie che distorcono i fatti e danneggiano le persone. Egli esprimerà ancora una volta la necessità del pubblico di un'informazione accurata e di un giornalismo onesto e sottolineerà che i media dovrebbero rispettare i valori di fondo e i diritti umani. Di conseguenza, la dura reazione di Takba Buyukustun non solo sosterrà suo marito, ma contribuirà anche a creare un ambiente di comunicazione più sano nei media e nelle piattaforme dei social media. Prevenire la diffusione di notizie così irrispettose e infondate garantirà che la società abbia un migliore accesso alle informazioni e che le persone non vengano danneggiate emotivamente. Con questa affermazione, Tuba Buyukustun non solo ha mostrato l'amore e il sostegno di un coniuge per l'altro, ma ha anche incoraggiato la società ad agire in modo più consapevole e ad essere più sensibile nei confronti dei membri dei media. Grazie per aver guardato il mio video.